Partendo dalla sua affermazione, questa è l'era dell'informazione e la privacy è il tema dei nostri giorni. Come si traduce in pratica ciò dal punto di vista del valore economico? Sì, questa è l'era dell'informazione perché attraverso l'informazione, più in particolare tutti quelli che sono i nostri dati, gira il mondo economico. Facebook è tra le cinque aziende più quotate al mondo e tutte le imprese, le multinazionali che ruotano intorno ai temi dell'informazione, che aggregano dati, oggi fanno la differenza. I dati servono per tantissime cose, i dati servono per profilare i nostri gusti, i nostri comportamenti, per inventare nuovi prodotti, per cercare di capire quali possono essere i nuovi servizi. Tutto nel nostro mondo oggi si muove attorno ai dati, che sono una fonte preziosa di informazioni e che noi a volte regaliamo, come è stato detto oggi durante questo corso. E quindi è importante prendere consapevolezza dell'importanza che i nostri dati e la nostra privacy hanno anche a livello economico. La diconomia tra intenzioni, comportamenti e attitudini delle persone in rete è definito il paradosso della privacy. In che senso? Allora, il paradosso della privacy è questo. È stato studiato, visto attraverso esperimenti e attraverso indagini, che le persone, quando si fanno dei questionarii, quando si fanno domande, dichiarano di tenerci molto alla propria privacy, ai propri dati, non svelerebbero i propri dati. Quando si trovano in situazione per cui davanti a un sito che per offrirti un servizio ti chiede, dammi i tuoi dati, noi non ci pensiamo due volte a dare questi dati. E gli esperimenti dimostrano che le persone, c'è un esperimento che fa vedere come per una barretta di cioccolato le persone a volte sono disposte a dare il proprio indirizzo email o delle password. Il che vuol dire, ecco perché è un paradosso, perché c'è una discrepanza tra le intenzioni che noi abbiamo e i comportamenti che effettuiamo. Anche qui la consapevolezza è importante. Consapevolezza di cosa? Cioè che cosa porta a questo paradosso? Il fatto che il contesto a volte è un sito più o meno friendly, ti spinge a dare più informazioni, quindi abituarci al fatto che il contesto ci può trarre in inganno, oppure al fatto che abbiamo dei bias cognitivi, per esempio una gratificazione immediata, il voler condividere una foto e far vedere a tutti che sono in un bel posto con degli amici, gratificazione immediata psicologica, non mi fa pensare a tutte le conseguenze che quella condivisione potrebbe avere per la mia privacy e così via. Cioè ci sono una serie di fattori che a livello anche razionale e cognitivo incidono su questo paradosso e allora dobbiamo acquisire gli strumenti per saper leggere questi fattori e saperci comportare anche in maniera diversa. E quali altri paradossi viviamo in riferimento all'economia digitale? Più che paradossi direi che viviamo delle discrepanze tra ciò che vogliamo fare, ciò che realmente poi siamo portati a fare, in relazione a una serie di fattori. E quindi qui ritorna, come è stato già detto, il tema della consapevolezza. Sono io che faccio, non ci sono le persone cattive, ci sono le persone cattive che vengono magari a voler carpire segreti o altro, ma sono io con il mio comportamento che do potere agli altri. Allora, come sto molto attenta a dove metto il borsellino quando esco o chiudere la porta di casa quando sto scendo, devo stare attenta a quello che faccio quando sono in rete, perché anche se non vedo, ci sono altri che da tutto quello che faccio possono trarre beneficio o possono usarlo a mio svantaggio. Ok, grazie mille. Grazie.